Presidente, si conclude oggi con la consegna di questi diplomi, questo importante progetto che la Camera di Commercio di Chiedi Pescara ha sostenuto fortemente. Questo è un progetto che noi sosteniamo da anni, questa in effetti è l'ottava edizione e grazie in modo particolare al professor Damario, che è una persona veramente in gamba nel suo lavoro, riusciamo a sfornare tecnici sul digital marketing di livello preparati e la prova lo dimostra che appena finiscono praticamente il corso trovano subito occupazione. Oggi 28 i ragazzi che premiate con questo diploma, ma si guarda già al futuro anche perché, come diceva lei poc'anzi, queste sono figure sempre più richieste dal mondo del lavoro. Sì, questo è il numero che abbiamo debordato perché il limite era di 25, siamo arrivati a 28 perché essendo le attività molto pratiche il numero deve essere anche abbastanza ristretto perché sarebbe impossibile seguire tutti i ragazzi. I ragazzi si sono meritati questo percorso di 240 ore con veramente i migliori docenti italiani. Faccio un esempio, c'è il festival di digital marketing che si è tenuto a Rimini, il festival più importante, ha decretato due nostri docenti tra i 100 docenti di digital marketing più influenti in Italia, quindi per far capire il livello del percorso formativo.